Questa serata diciamo un po' particolare come è stato annunciato anche dall'Anchor digitale, abbiamo un secondo momento di confronto prima della premiazione, un momento di confronto dal titolo brand marketing relazionale strategie per il successo per continuare appunto a parlare e a confrontarci proprio sul tema del marketing della comunicazione e dell'influsso naturalmente delle tecnologie e del digitale che stanno ormai diciamo coinvolgendo tutti gli ambiti della nostra esistenza, delle nostre attività, del nostro lavoro e naturalmente anche quello del marketing e della comunicazione. Io a questo punto invito a salire sul palco i protagonisti di questo altro CEO Summit ovvero Oscar Dalbit CEO e presidente di Migaston. Un bel applauso per lui e poi ancora Gaetano Grizzanti CEO di Univisual. Eccoli. Buonasera e bentrovati. Beh innanzitutto non ci sarà in questa occasione insomma la necessità di rincorrere il terzo incomodo perché siete solo in due quindi insomma avremo modo e spazio ecco per approfondire con voi appunto queste tematiche. Ecco io prendo spunto innanzitutto dalle riflessioni che sono emerse dalla tavola rotonda precedente naturalmente ecco il punto focale centrale è questa invasione del digitale a cui abbiamo assistito e stiamo assistendo soprattutto nel periodo post pandemico che ha accelerato insomma una trasformazione che era già in atto e naturalmente ecco è cambiato anche il nostro vocabolario in questo senso un vocabolario che si fa sempre più digital dove le parole intelligenza artificiale automazione hanno un'importanza ecco una centralità sempre più netta però d'altro canto ecco non dobbiamo eccedere ecco verso queste tendenze perché c'è anche un fattore umano che comunque è sempre importante centrale determinante in un'attività appunto come il marketing che è un'attività di comunicazione e quindi ecco quanto è importante in realtà concentrarsi sulle relazioni. Lo chiedo innanzitutto a Oscar Dalbit. Innanzitutto saluto tutti. Niente allora il marketing relazionale e l'automazione abbiamo sentito prima insomma insomma abbiamo parlato di quanto è quanto è il scusate sono un po' emozionato allora un applauso di incoraggiamento perché il palco il palco di 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 borse italiane di palazzo mezzanotte naturalmente può mettere un po' in soggezione. No allora l'automazione è importantissima siamo riusciti insomma a raggiungere sofisticazioni abbiamo sentito prima raggiungere i nostri clienti sapere dove investiamo in pubblicità dove mettiamo i nostri soldi e questo è importantissimo nella comunicazione della pubblicità siamo passati dalla pubblicità generalista a pubblicità sempre più specifiche tuttavia ci siamo accorti specialmente in questi ultimi due anni e mezzo noi quando abbiamo introdotto un po' il marketing delle relazioni che il fattore umano è importantissimo perché creare relazioni è la base è proprio la fiducia e quindi un algoritmo un bot una cosa automatica non può creare quella relazione che solo il rapporto umano può portarci. Allora dove voglio arrivare? Nel marketing le relazioni sappiamo partono dal vengono utilizzate per esempio nella fidelizzazione cioè per riuscire a far spendere di più i nostri clienti oppure arriviamo al marketing referenziale farci presentare un nuovo cliente nuove opportunità dei nostri clienti migliori oppure nel caso del customer service trattare bene un cliente creare relazione umana con quel cliente può portare veramente un brand a fare la differenza. Ecco in questo ambito delle relazioni c'è un aspetto molto interessante il ogni persona ha diciamo ruota attorno a ogni persona una media di 250 persone che conosce e questo è un dato interessante simpatico Joe Girard non so se lo conoscete un venditore di Detroit Guinness dei primati che basava il suo business quasi esclusivamente sul referral. Ha fatto un'indagine chiedendo a chi organizza matrimoni e purtroppo anche funerali chiedendo quante persone sono presenti a questi eventi insomma un po' particolari e la media è 250 persone quindi la risposta è quante persone che persone girano attorno a un individuo 250 in media e parliamo degli anni 60 e quindi la domanda che voglio lanciare un po' in questa parte dell'intervento è quanto siete distanti dal vostro cliente ideale? Quante persone ci dividono da il nostro cliente ideale e quello che è la nostra azienda? Ecco pensate che ci sono sei gradi di separazione è un'altra teoria che è stata diciamo ripresa che ci dividono da qualsiasi altra persona su questo pianeta diciamo e quindi se pensiamo che solo sei persone ci dividono magari dal presidente d'America e questo è stato fatto proprio un test su più di cento persone su questo discorso quindi la nostra domanda principale è in un mondo così interconnesso quanto siamo distanti con l'audience della nostra azienda umano il fattore umano dal nostro cliente ideale e quindi vi lascio un po' con questa sì ecco con questo punto di domanda con questa diciamo è interrogativo io sapevo appunto della teoria dei sei gradi di separazione non delle 250 persone che di solito parteciperebbero diciamo a un mio ipotetico matrimonio funerale le conterò cioè almeno quelle del matrimonio quello del funerale è un po' più difficile posso aggiungere una cosa che in due anni e mezzo lavorando in modo molto specifico sulle interconnessioni posso dirvi che le vostre aziende sono distanti una massimo due persone dal vostro cliente ideale e questo è molto quindi ecco la distanza diciamo è breve però il tratto ecco che conduce poi insomma al cliente ideale quello che dobbiamo colmare con la nostra attività abbiamo detto appunto 250 diciamo connessioni di base però queste connessioni in realtà sono potenzialmente moltiplicate invece dal digitale dagli strumenti che adesso digitali abbiamo a disposizione i social e non solo ecco appunto questo viene ampliato quindi un universo che si amplia enormemente rispetto appunto al face to face e quindi ecco le chiedo come è possibile sfruttare al massimo questa nuova interazione digitale e quindi far esplodere insomma all'ennesima potenza le nostre capacità di marketing relazionale sì allora siamo partiti appunto negli anni 60 con 250 persone dicevamo prima vi lascio immaginare oggi cosa può succedere con l'interconnessione che abbiamo oggi LinkedIn, Facebook insomma abbiamo un'interconnessione pazzesca l'unica cosa è che se abbiamo parlato prima di fattore umano e relazioni e quindi relazioni che si basano sulla fiducia ed è questo che porta poi alle opportunità il fattore umano vuol dire tempo uno dei nemici più grossi del marketing relazionale è proprio il tempo perché ti viene a pensare ok conosco tante persone ho una rete grossa come faccio cioè dovrei mettermi lì con tutti e fare questo e quindi cosa succede che questo fattore si può gestire in modo profittevole dico io avendo degli algoritmi avendo delle strategie e avendo anche un'azienda che sa supportare questo non cioè diciamo così che il marketing relazionale non è una strategia che può essere adottata da tutte le aziende partiamo da questo punto una pizzeria faccio un esempio potrà mai mettere a leva il marketing relazionale perché perché non ha sostanza per pagare quel tempo che è necessario per costruire queste relazioni invece tanti nostri clienti nell'ambito edilizia nell'ambito di servizi alle aziende di prodotti in generale prodotti che partono da 500 euro in su cominciamo a avere il budget intanto la seconda cosa quindi è poi saper andare in modo chirurgico a selezionare dove andare a creare relazioni e poi l'ultimo tassello è proprio il saper costruire queste relazioni e coltivarle nel tempo in modo appunto specifico ecco serve essere molto chirurgici nel riuscire ad identificare dove costruire queste relazioni. Lei ha sottolineato appunto il fattore tempo che è decisivo ecco nel costruire appunto le relazioni e io aggiungerei anche il fattore energia perché insomma è un'attività che appunto richiede tempo ma che richiede anche impegno, energia, costanza nel creare e nell'alimentare insomma continuamente queste relazioni ma oltre appunto ecco all'attività relazionale quali sono le altre attività in ambito marketing che appunto possiamo intraprendere per così creare il maggior profitto, il maggior business? Allora io parlo per il mio ambito perché noi siamo esclusivamente specifici, focalizzati sull'ambito del marketing relazionale il primo consiglio che dico per essere profittevoli è proprio trasformare la propria azienda in una specie di spugna che riesce a intercettare qualsiasi persona che vuole collaborare con l'azienda per presentarci un potenziale cliente o una opportunità e quindi quello che vedo nelle aziende è che mancano procedure, mancano diciamo le procedure per a qualsiasi livello far sapere al mondo là fuori che chi collabora con noi può avere un beneficio ecco, noi cos'è che facciamo? La prima cosa è insegnare le aziende a mettere a leva i clienti contenti quella è la prima parte, gli agenti, la forza vendite, i dipendenti, i fornitori immaginiamoci l'ufficio acquisti, se mi entra un agente di un fornitore, questo ha un ambito, abbiamo detto, molto ampio e perché non presentarlo al responsabile dell'azienda che ci occupa di relazioni questa è la prima cosa, trasformare l'azienda in una spugna la seconda è conoscere queste persone, qua entra in ballo il fattore umano e quindi stare un quarto d'ora con queste persone e conoscere la loro area di influenza queste 250 persone che al momento non conosciamo, chi sono? e dare un rating a questa persona e quindi in base a questo creare un follow up strategico e che non ci fa perdere tempo con magari un algoritmo o magari una strategia che noi per esempio stiamo applicando sul campo e tutto questo porta a creare grandi reti di relazioni che durano nel tempo e portano nuove opportunità, riportando il fattore umano di nuovo al centro ma usando anche la tecnologia io quello che consiglio, chiudo un po' questo intervento è di indagare un po' il marketing relazionale che è sempre stato trattato nel networking tra aziende e tra professionisti quello che abbiamo fatto noi e che stiamo sperimentando da oltre tre anni con bel successo è stato applicarlo all'interno delle aziende proprio perché la consapevolezza delle aziende che hanno un'audience un po' come quello di Facebook è incredibile che viene lasciata, è una miniera d'oro che viene lasciata lì e non viene sfruttata e quindi il marketing relazionale secondo me nel futuro sarà uno dei settori più ad alta crescita proprio perché praticamente in pochi lo fanno e lì si nascondono tantissime opportunità ecco quindi insomma anche una parola spesa nei confronti anche delle capacità appunto relazionali quindi legate un po' al fattore umano e umanistico oltre a quello tecnologico perché sembra ormai che l'avanzata appunto della tecnologia e del digitale spazi via completamente quelle che sono le competenze invece proprio della persona invece sappiamo insomma ce l'ha raccontato lei quanto ancora valgano ecco io dottor Grizzanti arrivo anche da lei perché se no appunto Oscar Dalvit mi monopolizza completamente la conversazione ecco noi abbiamo parlato naturalmente di attività di canali giusti per la comunicazione per lo sviluppo del marketing però è vero che a parità di condizioni diciamo le aziende e le imprese hanno dei risultati differenti e qui subentra il fattore diciamo della personificazione insomma della singola azienda e quindi anche del brand ecco quanto conta in realtà il brand oggi per un'attività efficace ed efficiente di marketing? L'identità no? che è un po' il tema su cui insomma il lavoro da 36 anni pensavate che avevo 25 anni vero? ditemi la verità quando parliamo di identità e di identità di impresa o di identità di marca e volutamente le distinguiamo spesso un errore nell'approccio ai temi dello sviluppo di una strategia di identità che non è la strategia di comunicazione è un'attività ex-ante è proprio quello di confondere e di sovrapporre l'impresa con il brand traduciamo la parola brand in italiano con la parola marca perdonate questa specifica perché poi nel mio libro trasformare un marchio in una marca c'è poi tutto un passaggio molto logico che è quello di capire come oggi un'azienda, un'organizzazione possa evolvere il proprio marchio in un'entità in grado di entrare in sintonia con il proprio pubblico quando un marchio è capace di fare questo la chiamiamo marchia si trasforma in marca questo è un processo che parte da un'evoluzione della cultura di impresa da un'evoluzione della cultura di management quando usiamo la parola branding si pensa di andare a semplicemente fare una bella campagna pubblicitaria per creare notorietà ci sono imprese che possono evolvere il proprio marchio in una marca necessariamente senza fare pubblicità quindi in che modo oggi il brand per rispondere alla domanda è rilevante il brand è in grado di creare quell'interfaccia relazionale senza far sentire i propri clienti come delle vittime commerciali quando mi capita di fare formazione alla rete vendita per esempio si parte da parto da una provocazione adesso tu vendimi senza dirmi niente del prodotto è evidente che è una provocazione si ottiene una mezza fantastica scena muta l'obiettivo è guarda che da domani oltre a vendere il prodotto o servizio devi anche vendere il brand ma come si fa a vendere un brand quando in realtà un brand non si vende ma si compra mi fermo qui perché non so allo step successivo innanzitutto comunque notiamo appunto una correlazione tra brand e relazione nel senso che appunto il brand deve creare deve saper creare una relazione con il potenziale cliente che non si deve sentire solamente appunto come vittima consumatore di qualcosa ma come parte insomma di un circuito di un tutt'uno e come si fa a creare questa relazione attraverso suggerisco una condivisione valoriale che è diventata sempre più importante perché il brand appunto non deve solo comunicare se stesso ma deve cercare magari di comunicare dei valori condivisi dall'azienda rispetto naturalmente ai potenziali clienti ecco e questa è un po' la chiave quasi ci sono avvicinata ci spieghi lei allora i valori non li ha un brand ma li ha un'impresa il brand serve per personificare un'impresa e lo fa attraverso un modo di porsi delineato da un carattere come se fosse una persona ed è qui la cosa che dicevo prima la difficoltà di scendere impresa da brand sono due entità che non si sovrappongono mai ma che viaggiano in parallelo il brand è il valore aggiunto tempi a dietro il valore aggiunto di un prodotto o servizio erano tutta una serie di componenti che io potevo attribuire alla mia offerta attraverso il design del prodotto attraverso una una consulenza in più ma oggi come dire tutto questo qualità servizio qual è quell'azienda che dice io ti do un buon servizio ma insomma la qualità del mio prodotto ma non è proprio di qualità professionalità servizio sono tutti dei prerequisiti oggi si va a san dire che io devo rispettare un minimo di qualità o di compliance rispetto a ciò che vado a vendere nei confronti poi di quello che è la mia concorrenza che ormai chiunque ha un brand invece è il vero valore aggiunto oggi il brand forse è il primo vero prodotto che un'azienda dovrebbe vendere come dicevo prima come si fa a vendere un brand definendone i tratti caratteriali definendo un credo anche questo è un tassello non semplice definiamo un credo per un brand che poi l'azienda deve dichiarare per sempre bisogna mantenersi quindi fedeli sempre al brand oppure c'è anche un'evoluzione del brand stesso e quindi anche dei valori legati al brand perché tutto è un motivo per cui dicevamo prima io devo rimanere fedele a me stesso io ho un mio carattere ho un mio modo di essere ho un mio modo di pensare e quindi un'azienda deve riuscire a inquadrare questo ed è così per sempre i valori cambiano il marketing deve adeguarsi ai tempi i prodotti devono ovviamente seguire delle esigenze del mercato una cosa che non cambia mai ed è potenzialmente immortale è il brand tutto il resto cambia se io ho un carattere ma il carattere significa avere un approccio non so non so sono un brand bastardo io scusatemi sono un brand bastardo e vendo frullatori però sono un bastardo unico secondo me questi frullatori venderabbero più degli altri per quello io distingo il mio prodotto è faccio dei frullatori sono fortissimi funzionano fanno quello che devono fare chi li vende chi li rappresenta io sono un brand sono un bastardo un gran figlio dimmi sto ovviamente facendo l'esempio estremo ma è qui il senso qual è la mia personalità non è una cosa che si trova con un'agenzia di pubblicità o perché in azienda facciamo condivisione delle interviste c'è un processo c'è un lavoro c'è un lavoro c'è delle tecniche però non è semplice perché devo decidere quello che sono e non quello che faccio per sempre quindi insomma una forte identificazione del carattere diciamo così del brand quello che cambia invece possono essere i modi le tecnologie i mezzi però l'importante ecco è avere innanzitutto un'idea e un'immagine chiara di se stessi per poi comunicarla agli altri è una cosa che riguarda anche in realtà le persone le aziende qui presenti oggi come dire i valori legati all'ambiente adesso c'è questo obiettivo del 2030 va bene ma non si può associare quello a un brand fra un po' è la normalità le aziende che non sono allineate a un certo tipo di approccio legato alla sostenibilità alla governance all'ambiente saranno fuori gioco io non devo associare il brand a quello io sono un brand bastardo però sto attento all'ambiente e quindi sono bastardo con chi? con chi accende un fiammifero nel bosco io insomma non resisto lo faccio fuori questa è la distinzione ed è fondamentale trovare il modo con cui io se io riesco a poi a essere a pormi nei confronti delle mie relazioni in modo coerente io sto affermando stesso sto affermando un brand perché Apple se ne parla sempre tanto perché è personificato al suo fondatore però immaginiamoci che un'azienda oggi non è che il brand nasce quando nasce un'azienda è il lavoro su brand di aziende che ci sono da 50 anni il brand può nascere oggi paradossalmente e se si interviene sul brand lo si fa perché ci sono tanti motivi io sono anche perito del tribunale in materia di Milano in materia di trademark anche questo sta generando negli ultimi anni mi sono decuplicate le consulenze in quest'ambito perché tanti motivi perché sono cambiati i presupposti del mercato perché il mio marchio non è più così identificativo di ciò che sono diventato perché mi sono internazionalizzato e ho trovato il mio nome in America che lo usano già e piuttosto non riesco a proteggere le mie idee oppure oggi vendo questo domani ho aggiunto altri tre prodotti che prima non avevo insomma è un sistema che va gestito ecco però appunto la parola fondamentale che mi sono segnata è coerenza coerenza rispetto a se stessi appunto ecco come e così concludiamo insomma una battuta anche ultima per Oscar Dalbit come ecco quanto è importante la coerenza rispetto anche al marketing relazionale avere una chiara idea di chi si è per poter poi entrare in comunicazione con l'altro allora diciamo così che l'azienda nel marketing è come un pantheon deve avere tutti i pilastri insomma che abbiamo davanti che funzionano noi ci occupiamo di marketing relazionale ma è ovvio che quando noi ci relazioniamo con una persona che diventa un partner dell'azienda che presenta nuovi clienti questa persona deve avere un link con l'azienda e quindi essere un po' prodotto del prodotto anche se non è un dipendente un cliente no? cioè anche se è una persona che perché attenzione il marketing relazionale non lavora solo sulla clientela perché qua lo distingo cioè il referral marketing è il classico invita l'amico diciamo poi con tutte le varie declinazioni il marketing relazionale invece lavora su un'esigenza che c'è là fuori specialmente in momenti di crisi di poter mettersi in tasca un beneficio ulteriore magari facendo una semplice referenza in questo ambito ovviamente un marketing funziona perché se io porto una referenza con la nostra rete se il marketing non funziona o se il brand non mi prende cioè finisce lì infatti noi ci accorgiamo tante volte di tante un po' deficienze tra virgolette delle aziende e magari con aziende nostre partner non ci occupiamo di quello vanno sistemate oppure la forza vendita che non è non funziona in modo giusto ecco quindi quello che dico è che tutti questi argomenti e anche quelli dei colleghi prima sono fondamentali solo che il nostro pilone adesso non esiste nel 99% delle aziende ecco e quindi è importante costruirlo ecco battuta ultima di 30 secondi per entrambi qual è un valore che prende che è appetibile dal punto di vista comunicativo allora nel mio ambito la carota è il per attirare le persone ovviamente è l'aspetto economico ma la cosa che attrae di più è l'influenza perché quando i nostri noi li chiamiamo referral director quelli che si occupano di mantenere le relazioni con queste persone mettono in campo la loro influenza io quella persona me la tengo stretta perché io so che è una persona importante perché sente tantissime persone e ha un'area di influenza quindi quello che voglio dirvi è che l'azienda ha un'area di influenza e può diventare strategica e le persone la percepiscono quelle che vogliono collaborare con l'azienda quindi area di influenza perfetto influenza quindi per Dalvit invece per lei Grizzanti secondo me la credibilità che è lì poi la difficoltà di essere sempre coerenti con se stessi ci sono a volte dei paradossi o sono un'azienda che vende armi e il mio credo io credo nella pace generico diventa un po' sì va bene per tenere la pace devo fare la guerra va bene bisogna insomma la credibilità la si ottiene attraverso un'assoluta trasparenza ancora oggi a volte vado su dei siti internet di un'azienda e non si riesce a capire questa azienda da dove arriva chi la governa da come è nata anche banalmente attraverso questi aspetti benissimo allora influenza e credibilità ce le segniamo queste parole per migliorare insomma le strategie di marketing nel presente e nel futuro io ringrazio naturalmente gli ospiti di questo CEO Summit Oscar Dalbit CEO e presidente di Migaston e Gaetano Grizzanti CEO di Univisual grazie per aver partecipato a questa serata grazie grazie